pronti a prendere 8 gol che trambata terribile quinto rigore sbagliato alla Fiorentina in questa stagione e qui il nostro ghigno chi sono i 4 giocatori che ne hanno sbagliato almeno uno fin qui pastore allora la Fiorentina si intende allora si tratta di Boraventura col Sassuolo, Nico Gonzalez con Lazio e Inter, Biraghi ieri con la Roma e Iconè contro il Napoli non va la Supercoppa e invece vale 1-0 per pastore seconda domanda Thursbert decide lo scontro salvezza tra Sassuolo e Frosinone sapete dirmi qual è il suo numero di maglia 42 ce l'ho a 6 fantagalli ammazza che flexata di Trevi sui numeri di maglia 1-1 domanda numero 3 e a proposito di Frosinone signore cari e signori cari ditemi i 4 difensori schierati titolari da il Francesco non è balneare di più questa difesa signori rifletteteci pure non è assolutamente facile però so che potete regalarmi delle gioie pastore vai pastor vai pastor zortea monterisi o coli marchizza no no zortea monterisi due quarti due quarti zortea monterisi a me manca il terzino sinistro se no ce l'avrei due quarti ma io ce l'avrei ce l'avrei ce l'ho tre quarti vai lancia ma non so il terzino sinistro lancia e che mi lancia ma chissà c'è valeri in cea ha preso ssv su fantacalcio quindi il signore valeri non ha giocato ma va a caso vai zortea monterisi romagnoli valeri no zortea o coli romagnoli valeri doppietta per eldor shomurodov in cagliare salernitana con quale maglia aveva segnato la sua unica altra doppietta in serie a genoa giusto quinta domanda euro goal di danimo tamarassi sapete dirmi con quale maglia ha giocato per la prima volta nei professionisti in italia trevisani pentella giusto bravo trevi bravo trevi due a due bissec fa volare l'inter contro il bologna al dall'ala qual è l'unica squadra di bundesliga in cui ha giocato tiro e nominare non la so alla faccia da alla faccia da alla faccia da di tino alzano no non la so colonia volevo dire colonia io no volevo dire colonia io voglio morire oh ma che ma che cos'è ma che cos'è ma che non ci posso credere l'ellas vince anche contro il lecce sapete dirmi chi sono i due giocatori schierati al primo minuto che provengono dalla slovacchia duda e suslov giusto dai ho peccato io dai ci siamo la ti ha anticipato credo di mezzo secondo calmi signora chavaraschelia si è ripreso sta giocando benissimo sapete dirmi almeno tre squadre in cui ha giocato il georgiano escluso il napoli pastore rubin si dinamo batumi giusto locomotive mosca bravo prima gioia con la maglia del real madrid per il giovane arda guler in quale squadra giocava tre disani bravo fenerbahce 5 a 3 bravo dubito così bayern a balanga sul mainz già chi ha segnato l'ultimo degli otto gol della partita dei bavaresi tira a caso tel no per fortuna cani no gorezca allora questo giocatore gioca dal 2018 al 2019 al foggia adesso mi fa indovinare prima e seconda e poi fa tre vediamo eh che mal solito allora foggia 29 presenze 0 gol quando che hanno 18-19 quante presenze 29 presenze 0 gol dal 2019 al 2020 va alla fiorentina e Tano Castrovilli no allora ora trevi fammi procedere a leggere soffitto tutta la sera foggia fiorentina ascoli spal salernitana attualmente alla fiorentina in cui gioca ranieri corretto corretto bravo trevi dal 98 al 99 gioca al bellavista 53 presenze 10 gol dal 99 al 2001 va al pegnarol 34 presenze 0 gol dal 2001 al 2007 gioca a Lecce 105 trebisani cevanton no l'altro the other vuoi dirlo giusto no 155 presenze 25 gol poi 2007 Palermo 2007-2008 Empoli 2008-20013 Lecce Giacomazzi lui Giacomazzi nello staff di Daniele De Rossi dal 2002 al 2005 gioca Real Madrid B A e questa è difficile che possa diventare altro 56 presenze 5 gol dal 2003 al 2005 Real Madrid 6 presenze 0 gol dal 2005 al 2006 prestito all'Espagnol 30 presenze e 1 gol dal 2006 al 2011 gioca all'Osasuna 148 presenze e 12 gol dal 2011 al 2019 va all'Atletico Madrid 243 presenze e 3 gol Zanzanzan Trevisani Juanfran giusto mamma mia che grande gol all'incrocio in rovesciata ci giochiamo tutto al 4 e al 5 anche è vero signori occhio perché parlerò un po' dal 2009 al 2010 gioca al Porto non gioca 0 gol quindi Porto B no poi va al Porto B adesso è ancora forte hai cercato apposta con il Porto B adesso è ancora forte l'abbiamo detto dalla volta scorsa sembra un giocatore almeno un giocatore che occasionalmente va al Porto B o nomina il Porto B ci sa allora dal 2010 al 2011 Beira Mar 6 presenze 0 gol 2011-2012 Malines 6 presenze 1 gol eh non Belines 2012 al Penafiel 12 presenze 2 gol squadra di cui io non conosco solamente l'esistenza il Malin in Belgio dal 2012 al 2013 Porto B 35 presenze 6 gol dal 2013 al 2015 Pacos Ferreira 54 presenze 4 gol dal 2015 al 2017 Porto 10 presenze e 2 gol dal 2017 Nant 6 presenze 0 gol 2017-2019 ancora Porto 27 presenze e 5 gol al 2019 va in prestito al Pauk 11 presenze e 3 gol scaldate le dita dal 2019 al 2022 Porto 65 presenze 18 gol dal 2022 Roma Sergio Oliveira giusto lo aspettavo da tutto il giro che arrivasse a Sergio Oliveira credevi avrei capito perché ero pensato prima o poi arriva da qualche parte in Italia decisiva per capire chi vincerà Cristi stiamo a giocare a tutti stiamo a giocare a tutti allora si parte dal 93 93-95 Valur 17 presenze 7 gol dal 95 al 97 gioco al PSV 13 presenze 3 gol dal 97 al 98 KR Reykjavik 6 presenze 0 gol dal 98 al 2000 Bolton 55 presenze 18 gol dal 2000 al 2006 Chelsea Gujonsen giusto giusto è un posto che parola Gujonsen che fatica che fatica che fatica